bellissima, stupendo, spaziosa, molto comoda, si comodissima, pulita, mini bar, tutto, tutti i comfort, l'autista molto professionale, si guida benissimo, acqua da bere, macchina di servizio per fare le foto in posti estremi, che dire? No, un servizio veramente impeccabile ed eccezionale, organizzatissimi, puntuali e disponibilissimi per tutto, per tutto. Lo consigliamo? Lo consigliamo sicuramente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.